Un buongiorno e una buona vigilia di Natale a tutti i miei co-cittadini. Auguro ovviamente salute e serenità per queste feste natalizie. Sono in questo momento presso il centro del COC, il centro operativo comunale, che praticamente sorveglia la situazione di sicurezza nella città e per i cittadini e augurano anche loro buone feste a tutti. Auguro ovviamente che i standard di sicurezza che sono stati dettati dai decreti del governo siano da tutti voi rispettati e vi assicuriamo che in questi giorni saremo al vostro fianco per qualunque necessità. Come vedete il centralino e i terminali di questo centro operativo sono in perfetta funzione, quindi voglio trasmettervi tranquillità e sicurezza per questi giorni di festa. Grazie e buone feste ancora a tutti voi.